Grazie, 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 grazie a tutti e a tutti Pronti? 3, 2, 1, Giovanna, soffia! E allora? La mamma, il papà, il solellino, la mamma, si può visitare, il papà e il solellino. La mamma, il solellino, la mamma, si può visitare, il papà e il solellino, la mamma, si può visitare, il papà, il solellino, la mamma, si può visitare. Voi, ok, ci prepariamo con lo stappo. Quante tappo, siamo incorniciati da questa costa di un napo. Sino tecnica di cuochi, bracci di pizzo, reticolta, signori alzate, gli occhi al cielo. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!